vai a lui la penalità hai visto se era attaccata bene scivolava precisa e ma con lui giochi in casa con quelle cose qua lui giochi in casa arriva ascoltami è tutta esperienza devi saltarla via perché lui l'ha presa in pieno a beh tre Sì ecco allora questo è semplice questo è semplice forse guarda mettilo lì davvero perché sei stronzo guarda che bastardo tanto faccio lo stesso l'unica cosa è che quando lo prendo salta giù si rifiuta allora spampi cosa gli hai fatto metto la mappa 2 ah ma l'hai tolto perché l'hai tolto tira indietro tira indietro qua faccio come è serio tanto che se ti attacchi ti tiro dietro ma bisogna fare il tronco a scendere prima hai messo troppo facile la rifaccio come si deve vado a rifarla bene in seconda stavolta vediamo ho detto seconda non folle cazzo ma veramente cazzo mi ha mi ha contagiato di bestia come si vediamo ti vediamo parca tratta il secondo è troppo lunga sarà anche in certa adesso sarà nooo vabbè è seconda cazzo ma il secondo è troppo lunga è troppo lunga cazzo è troppo lunga cazzo ah ma perché c'avevo la seconda marcia per quello che andava così chi l'ha messa su su due ah ma c'è arrivato il paolo ecco perché ti ho visto fatto a zero a spampi vuoi fargliela fare mettiti lì e fargli fare questo basta non scende non scende più sembra stupido io prima l'ho salvata per un pelo è stupido o prendilo perché se a me non mi cade addosso guai non mi cade addosso 5 5 è uscito è andato di là però di lì sono contro o parla di qua ma non ci tengo ma che prendi dentro gli rami che prendi dentro gli altri vanno dritti e perché quando lo fai se arrivi lungo poi non chiudi più più veloce più veloce più veloce più veloce sta indietro da indietro più veloce via chiudi via 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 bravo e allora bravo ragazzo e Grazie a tutti